Stai cercando un appartamento ma non sei ancora pronta all'acquisto? Chiedi a Cartesio. Residenza Cartesio, Fonte Laurentina. Affitti oggi, acquisti domani. Appartamenti in affitto a partire da 600 euro al mese, con box auto incluso. E il primo mese è gratis. Davvero un bel vantaggio? E per l'acquisto avrai, senza nessun costo aggiuntivo, il diritto d'opzione ed uno sconto del 7% sul prezzo aggiornato con la variazione dell'indice Istat annuale. Un'offerta unica per battere la crisi e per realizzare il tuo sogno di casa. E poi c'è l'arredo. Con una consulenza gratuita, Cartesio ti aiuterà ad ottimizzare gli spazi, mantenendo tutti i comfort, con un tocco di eleganza. Un complesso di nuovissima costruzione, con struttura portante antisismica, serramenti in legno di pino, portoncini di ingresso blindati, riscaldamento autonomo, finiture pregiate e impianto di videosorveglianza. Gli appartamenti sono in classe energetica A, B e C, con pannelli solari per la produzione di acqua calda, pareti esterne in doppio strato di laterizio per il contenimento energetico e il recupero delle acque piovane per la fornitura delle cassette di scarico dei WC. Ben collegata al raccordo anulare alla metro B laurentina, con in fase di realizzazione il corridoio della mobilità per il trasporto pubblico con filobus. Vicina a negozi, servizi, in una zona in forte sviluppo. La Residenza Cartesio è la soluzione giusta per te, con monolocali, bilocali e trilocali, tutti comprensivi di box auto e stasera cena in terrazzo. C'è posto davvero per tutti. Se vuoi, sei invitato anche tu. Per avere più informazioni, vieni a trovarci. Siamo aperti tutti i giorni, mattina e pomeriggio, o visita il nostro sito. Residenza Cartesio, Fonte Laurentina. Affitti oggi, acquisti domani. www.residenzacartesio.it Io la mia casa l'ho trovata così.